dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile sono uno psichiatra e l'altro giorno mi è capitato un caso che mi ha fatto correre un brivido gelido lungo la schiena qualche tempo fa arriva una famiglia nel quartiere una coppia sui 60 con un figlio sulla trentina il figlio era un cosiddetto asociale che si vedeva molto raramente fuori casa naturalmente non potevo chiedere nulla direttamente ai genitori ma sembrava abbastanza ovvio che si fossero trasferiti nella nuova casa per sfuggire allo stigma sociale con il passare delle settimane il figlio usciva sempre meno fino al punto da non lasciare più l'appartamento ora era diventato un completo asociale chiuso costantemente nella sua camera ogni notte sentivo sua madre gridargli contro nella sua camera quando la incontravo casualmente lei mi salutava con un sorriso ma aveva sempre un'aria pallida e tirata passarono sei mesi dall'ultima volta che avevo visto il figlio il padre venne a trovarmi e mi disse potrebbe venire a trovarci domani non ero mai diventato un loro amico nero stato coinvolto professionalmente con la loro famiglia ma come dottore e vicino di casa senti il dovere di aiutarli ed accettai il giorno successivo andai a casa loro e veni accolto dal padre e dalla madre prego venga con me disse la madre dirigendosi verso la porta della camera da letto del figlio di fronte alla porta la madre gridò sto per aprire entrò e cominciò a urlare perché stai ancora dormendo tirati su tirò via di scatto le coperte dal letto e sotto di esse vedi qualcosa che mi lasciò incredulo e sconvolto sul letto era sdraiato soltanto un manichino senza vestiti né lineamenti del volto fu a quel punto che il padre parlò la persona che volevo vedesse è mia moglie non riesce ad accettare la realtà